Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 21 marzo, nella zona sud di Catanzaro, precisamente sul viale Isonso. Una Fiat Panda, che ha perso il controllo ribaltandosi sul manto stradale per causa in corso di verifica, finendo su di una sterpaglia diacente alla carreggiata, aveva a bordo due ragazze, rispettivamente di 22 e 28 anni. La 22enne che si trovava alla guida del mezzo sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Estratte dall'abitacolo le malcapitate sono state affidate alle cure del personale sanitario del SUEM del 118, con il successivo trasporto in ospedale con le ambulanze sul luogo dell'incidente, anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.